Buonasera a tutti, siamo qua dopo una bellissima giornata, il primo sabato di giugno, ci sarà la serata musicale, di che si tratta? Cristian vuoi parlare di tu? Allora, proviamo un po' tutti, vai andando, guardate beh? Allora, il gruppo come si chiama? Diciamo ai nostri lettori. Come si chiama? Trio del Sud. Trio del Sud, composto da? Allora, Luigi Stajano, Cristian Brucale e Martino Brucale. Allora, cosa farete stasera? Stasera abbracceremo un po' tutta la cultura popolare, dalla pizzica alla tamurriata alla tarantella, quindi faremo un viaggio con molti suoni contaminati, quindi abbiamo un po' di strumenti, zampugne. Abbiamo visto, abbiamo visto pure la zampugna qua. C'è la mella, c'è la mella. Quindi farete proprio un qualcosa di sperimentale, diciamo, stanno andando, ecco la nostra musica. Tantissime prove, diciamo, tantissime prove. Pandemia abbiamo provato. Diciamo che noi abbiamo sempre amato molto il folk americano, ma noi abbiamo il nostro folk, le nostre radici, il nostro sangue. Assolutamente sì. Ecco, la musica che si perde nelle nostre tradizioni. Io credo che il nostro folk sia molto molto più interessante degli altri folk mondiali, perché noi abbiamo la storia, cioè noi siamo la culla della cultura e quindi tutto il nostro folk è carico di tutta questa storia. Sono contaminazioni arabe, contaminazioni greche, di tutto. Spargole, francese, inglesi, greche, ottomane. Si perdono la notte dei tempi. Austro-ungariche. È solo che noi dobbiamo dare valore alle nostre tradizioni. Ma noi lo facciamo perché lo facciamo sempre ogni giorno, perché insegniamo ai bambini queste tradizioni. È l'unico modo, guarda, caro Michele, l'unico modo è insegnare ai bambini il valore della nostra cultura. Ebbene, vi ringraziamo e non c'è altro che invitare tutti a venire stasera a questo bellissimo concetto. Grazie Michele, grazie. Guardate, guardate, guardate sì. Un applauso a noi, vai! Grazie a tutti.